Oggi si tende a fare delle mostre e a mettere delle cose in fila una dietro l'altra. Questo è un percorso, non sono delle cose messe vicine l'una all'altra. È un passaggio, è un ascesi, chiamiamola così. La Porta dell'Angelo, una mostra che racconta il percorso e il pensiero di Ugo Riva attraverso 22 sculture e 7 disegni. Adesso arriva anche un catalogo dell'esposizione, visitabile fino al prossimo 7 gennaio nella Fortezza Medicia di Arezzo, che offre una lettura approfondita dell'arte del maestro Bergamasco e una descrizione critica delle sue opere. È un catalogo veramente stupendo, che dà una rappresentazione sognante di questa bellissima mostra, curatissimo nella qualità, curatissimo nei contenuti e quindi sia un bel regalo di Natale. Il regalo ce l'ha fatto Ugo Riva a portare qui le sue opere. Ancora mostre in fortezza, un luogo riscoperto dagli aretini e scoperto dalle nuove giovani generazioni. È un motore essenziale, la cultura, queste mostre continuano ad alimentare un buon turismo in città e è giusto che un'azienda come Estra sostenga queste buone pratiche amministrative. La mostra, in oltre sei mesi di esposizione, ha accolto circa 60.000 visitatori. Ugo Riva è un artista che ormai è arrivato al punto più compiuto della sua parabola e dovendo trovare un degno successore di Taimer, che è un artista con un'alta densità di divisione dell'Occidente, si è pensato a Ugo Riva perché è chiaro che o andiamo a cercare i morti, e troviamo molti scultori importanti, anche toscani, o cerchiamo i vivi e occorre che essi abbiano una integrità di immagine che non venga confusa con icastica e con altre faddonie di una ricerca artistica velleitaria.